Buonasera Presidente Biden, Presidente Biden, President, Mr. President, it's ok? Are you ok, President? It's ok, no. Ok, tutto apposto. Welcome, benvenuto. Oh, di nuovo, mamma mia. President, Mr. President, ecco. Are you ok? Yeah. Ok, it's ok. Yeah, I'm very good. Si sente bene? Si. Eh? Thank you. Thank you. Mamma mia. Thank you very much, I feel good. You are welcome, buonasera. Dove va? Mr. President, no, mamma mia. No, non arriva la metropolitana perché non è la metro, it's not the subway, non è la metropolitana qui, no, no, no. What's your name? Con chi parla? Mr. President. My name is Joe Kennedy. No, Biden, lei è Biden, è Biden, ma con chi parla? Certo, prego. Ecco, se riesce, if you can. No, 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 sta girando su, no, no, Mr. President, no, 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 you have to. No, my name is Joe Kennedy. Ha già salutato, lasci stare.